Il Governo ha modificato nel Decretone la richiesta di un parere anziché di un'intesa da parte delle Regioni. Come rispondete? Anzitutto c'è da dire che le Regioni hanno ricercato all'unanimità un'intesa con il Governo. Abbiamo sollecitato al Ministero e al Ministro la possibilità di realizzare un accordo che potesse in qualche modo salvaguardare il ruolo e funzioni delle Regioni che, come sappiamo, hanno la responsabilità sui centri per l'impiego e sulle politiche attive del lavoro. Per questo avevamo chiesto l'intesa con il Ministero e, nonostante i tentativi svolti in occasione di un incontro, poi tutto si è interrotto. Non abbiamo compreso le Regioni e ci siamo trovati con un emendamento che il Governo ha presentato, sostituendo la parola, in qualche modo, che noi avevamo chiesto, che era intesa con le Regioni, con il parere delle Regioni. Comprendiamo tutti che questa è una chiusura, non si vuole trovare un accordo e questo è profondamente sbagliato, soprattutto di fronte ad una disponibilità che le Regioni hanno dato di metterci la faccia perché i cittadini, le persone che hanno bisogno debbano essere accolte e gli vanno date le risposte ai loro bisogni e, nonostante questo tentativo di collaborazione, non comprendiamo oggettivamente l'atteggiamento del Governo che rischia di affaticare, di complicare la velocità delle risposte che, mentre bisogna dare alle persone che si rivolgono ai centri per l'impiego.